immaginatevi che marlena e questo maschio hanno avuto degli scontri quando li ho messi insieme maschio e femmina fra cani non indifferenti perché sono concorrenti al cibo i cani che sono predisposti e non sono tutti e non lo sono neanche fra i miei infatti io ne ho già scartati due sono predisposti dicevo a vivere col gregge basta che sentono un po l'odore che salti fuori un po la loro genetica proprio autentica dello shepard dog e iniziano ad avere una tolleranza incredibile infatti guardi ma addirittura questa pecora vicino ai cani sicorica e c'è una come si dice c'è una teoria fra i pastori che la pecora sicorica solo quando è tranquilla e guardate come sono incuriositi cani se no starebbe in piedi infatti guardate guardate la più sicura e l'altra le dici ma come mai ti sei caricata infatti elena che la più sicura delle due ed è un po il discorso di chi dice no non ti devi mai sedere vicino a un cane se il cane è dominante se il cane perché ma io mi siedo sempre in terra c'è quindi si può dire che io abbia smontato gran parte della cinofilia di chi parlava per sentito a dire continuava a leggere i libri che avevano scritto 50 anni fa perché io ho sempre provato tutto nei minimi dettagli guardate che l'annusa ed è il motivo per il quale ho voluto iniziare sto lavoro per poter veramente iniziare a studiare e credere solo più quello che io provo anche in questo settore dove chi ha quattro pecore in qualche anno che un cane si sente un maestro ma in realtà bisogna studiare a fondo perché quando ho iniziato 15 anni fa inserire i cani nelle greggi ho trovato tanta cultura sul cane da conduzione animali ma pochissime sul cane guardate che il maschietto è andato da mangiare le feci sul cane da protezione che sono cani entrambi ma hanno proprio provenienze selezione genetiche cane da protezione del greggio ultramillenari e quelle la conduzione è molto più moderno ma ci scelgono proprio cani diversi quello la conduzione deve avere un istinto predatorio ed avere anche il pan armatorio che spiegano molto bene i coppinger ma cosa che invece non hanno i buon cani della gregge guardate il relaz di ste pecore parlano da sole l'altro che continua a mangiare praticamente le feci spettacolo sto video